Sui bambini non si può veramente scherzare se ci sono abusi, se ci sono manipolazioni, queste sono inaccettabili e bisogna andare fino in fondo. Chi ha responsabilità deve prendersene tutte le responsabilità e pagare per quello che eventualmente ha fatto. Ma questo principio vale sempre, anche quando i bambini vengono trattati come pacchi postali e mi riferisco al provvedimento, al disegno di legge Pilon, che di fatto considera i bambini come una cosa da scambiarsi tra genitori, come se loro non avessero una loro vita e il diritto di avere le loro amicizie negli stessi posti, andare a fare attività sportiva. Quindi penso che quando si parli di bambini bisogna essere impegnati su tutta la linea, non solo quando c'è la possibilità di strumentalizzare una vicenda dolorosa.